Continua la mobilitazione per denunciare il caporalato a Grafica Veneta, una situazione insostenibile di sfruttamento, razzismo e schiavitù che ha interessato un gruppo di lavoratori pakistani che ancora non ha visto riconosciute le loro legittime rivendicazioni. Venerdì 26 novembre alle ore 21 al Piccolo Teatro Don Bosco di Padova scrittori, musicisti, artisti, rappresentanze sindacali. Si troveranno insieme a una delegazione dei lavoratori pakistani per una serata di sensibilizzazione e solidarietà. Vi aspettiamo, questa lotta è importante, non possiamo rimanere indifferenti.